Il Logbook Con il tempo imparerai a organizzare le escursioni in apnea in maniera eccellente. Il sistema più rapido per acquisire questa competenza è quello di stilare ogni volta un resoconto di come è andata l'escursione, elencando le attrezzature che indossavi, la quantità di pesi utilizzata, gli eventuali problemi incontrati, le condizioni dell'acqua. Soprattutto è importante prendere nota del tipo di escursione svolta, delle profondità raggiunte, del numero di immersioni eseguite. Questo ti permetterà di tenere sempre sotto controllo il miglioramento delle tue performance, ma ti permetterà anche di pianificare le escursioni successive con maggiore consapevolezza. Per scrivere il resoconto dell'escursione, utilizza il Free Diving Logbook PSS. Un diario appositamente studiato per riportare le attività svolte.